ciao con questo video voglio mostrarti come procedere all'acquisto questa è la nostra home page cliccando su negozio troverai i nostri articoli le nostre macro categorie tra le quali prodotti matrimonio i prodotti battesimo più chi nascita e così via cliccando su prodotti matrimonio troverai tutti gli articoli che realizziamo come i menu le bacchette matrimonio i segni a gusto e così via ogni categoria chiaramente avrà le proprie foto con la propria galleria andiamo sulle partecipazioni matrimoni economiche dove troverai una breve descrizione e le varie foto di tutte le partecipazioni che realizziamo ricordo che le partecipazioni sono tutte personalizzabili coordinabili con tutto il resto quali libretti messa menu eccetera i prezzi sono tutti iva inclusa clicchiamo sulla partecipazione di interesse come ad esempio questa qui vedrai una piccola galleria con tutte le varie foto una piccola descrizione è il menu a tendina eccolo qua qui potrei scegliere la stampa nera che include il testo nero e i disegni sia interni che esterni sempre a colori oppure la stampa a colori che include il testo a colori e i disegni interni ed esterni a colori in coordinato potrei scegliere sì e avrai appunto la busta in coordinato come in questo caso ecco l'esempio oppure no per avere la busta semplice questa è la busta semplice potrei scegliere inoltre se avere il bigliettino a bomboniera semplice quindi con il solo testo come ad esempio oggi sposi esternamente oppure la scritta nozze esternamente i nomi e la data degli sposi internamente oppure in coordinato come in questa foto ad esempio potete inoltre scegliere se non volere il bigliettino bomboniera e qui vedrete appunto il costo il prezzo totale in base alle scelte che voi fate ecco in questo caso ad esempio abbiamo la stampa nera che ricordo ha sempre disegni interni ed esterni a colori la busta semplice senza bigliettino bomboniera il costo di un euro il prezzo è iva inclusa se scorriamo sotto possiamo vedere tutte le caratteristiche una piccola liquida su come ordinare e i prodotti correlati quindi quello che ti può interessare come ad esempio libretto messa la tag i bigliettini bomboniera il menu eccetera non preoccuparti se non trovi proprio il prodotto correlato perché magari ancora non è stato inserito nel sito quindi basta inserire nel carrello un qualsiasi libretto messa menu o comunque l'articolo che desideri e noi lo facciamo in coordinato alla partecipazione che tu scegli tornando sopra voglio farti vedere un'altra cosa come ad esempio i bigliettini bomboniera se tu desideri più o meno bigliettini bomboniera rispetto alla quantità delle partecipazioni che hai selezionato quindi ad esempio se tu vuoi 60 partecipazioni ma vuoi 40 bigliettini bomboniera cosa farai selezionerai qua non mi occorre e andrai di nuovo sul menù a tendina nelle tre linette negozio prodotti matrimonio bigliettini bomboniera e sceglierai quello che più ti piace scorrendo troverai le varie foto dei nostri bigliettini bomboniera noi scegliamo ad esempio questo qui ci sarà sempre la galleria con le varie opzioni di carattere di testo oppure di colore qui potrai selezionare appunto la carta normale oppure la carta perlata in base a questo determinerà il prezzo in questo campo selezionerai appunto la quantità desiderata e aggiungerai al carrello ok riandando nel meno a tendina potrai vedere inoltre i bigliettini ricevimento oppure i bigliettini IBAN matrimonio cliccando su bigliettini ricevimento potrai scegliere quello che più ti piace non preoccuparti se non vedi i bigliettini IBAN o ricevimento in coordinato alla partecipazione che hai scelto perché significa che ancora non sono stati caricati nel sito essendo tutti articoli personalizzati su misura per il cliente non possiamo inserire proprio tutti gli articoli coordinati o comunque quelli da noi realizzati perché sono veramente tantissimi quindi cliccherai su bigliettini ricevimento semplice ad esempio e sceglierai la stampa nera che costa appunto 30 centesimi oppure a colori 40 centesimi qua troverai l'ordine minimo questo è valido per qualsiasi prodotto e la breve descrizione sotto i prodotti correlati una volta che hai inserito tutti gli articoli nel tuo carrello puoi andare nel carrello eccolo qui puoi scegliere anche qui di modificare le quantità diminuire o aumentare se hai un codice promozionale puoi inserirlo qui in questo campo e poi inoltre calcolare la spesa di spedizione cliccando su calcola spedizione selezionando poi la provincia la città e il cap e aggiornando successivamente troverai qua il totale e potrai procedere con l'ordine calcola spedizione Grazie a tutti.